amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi finalmente come promesso vi facciamo vedere una cupra formentor avevamo fatto po di tempo fa un video non avendone ancora avuta una fisicamente in mano dove descrivevamo tutte le varie opzioni che potevamo applicare a livello di motore asset impianto frenante su una vettura di questo genere è una vettura che devo dire a me personalmente piace molto e sta avendo un successo veramente notevole la descrizione sulle varie motorizzazioni l'ha trovata appunto sul video precedente in questo caso parliamo della versione benzina 1500 mild hybrid con 150 cavalli classico motore audi foswagen tsi con 150 cavalli devo dire che senza entrare appunto nella descrizione tecnica di questa macchina perché l'avevamo già fatto precedentemente sono ovviamente tutte macchine nuovissime e quello che normalmente ci chiedono i clienti è quello di rimanere all'interno di uno stage 1 o fare alcune piccole migliorie partendo da questo cliente nuovo quindi appena approcciato il mondo delle elaborazioni quindi abbiamo cominciato a fare alcune cose non è che si inizia e si fa tutto subito noi consigliamo di fare le cose per gradi imparare a conoscerci vedere come lavoriamo e soprattutto pian pianino capire quelli che sono le esigenze perché ci sono alcuni che hanno preferenze sull'ambito motore alcuni altri sull'assetto alcuni altri sull'estetica non è detto che sono come ho detto tante volte le esigenze o le modifiche siano uguali per tutti sono estremamente soggettive in questo caso da un punto di vista diciamo esterno abbiamo fatto solo il servizio di verniciatura pinze freno che ovviamente erano nella classica colorazione in ferro proprio normalissima quindi sono state verniciate le pinze dei freni in colore rosso abbiamo dato quel minimo di tocco sportivo e da lì appunto il cliente comincia a personalizzare la propria vettura poi in questo caso all'impianto frenante la macchina ripeto nuovissima basta vedere appunto i dischi che non hanno un solco credo che abbia veramente poche migliaia di chilometri nel momento in cui i dischi o le pastiglie saranno da sostituire ovviamente inizieremo con un disco ebc lavorato una pastiglia con una un grado termico diverso quindi il tempo poi con il tempo la macchina necessiterà di altre modifiche quello che poi ci ha chiesto il cliente è la parte motore o quantomeno diciamo la parte centrale del motore sempre stando dentro nello stage 1 in maniera particolare l'elettronica e il pedal booster in questo caso vi presentiamo l'evoluzione sia del cbox che noi programmiamo per quanto riguarda appunto la parte coppia potenza sia l'evoluzione per quanto riguarda il pedal booster perché entrambi possono essere ordinate in versione app cosa significa che il cliente scarica l'app della seletron mette appunto i dati della macchina e per quanto riguarda diciamo il pedal booster è molto semplice perché al posto che avere il classico telecomandino con quattro pulsanti ce l'ha sul sul telefono e la selezione dei pulsanti con la selezione dei pulsanti ottiene lo stesso risultato quello che invece fa una grossa differenza è la parte elettronica perché la parte elettronica rispetto alla versione con la classica centralina dove inseriamo un'unica mappa con ovviamente una determinata taratura con la versione app noi possiamo inserire fino a quattro mappature diverse un po' il concetto del pedal booster quindi city sport plus cos'era l'altra race esatto quindi ci sono quattro mappature diverse quindi c'è un come dire una soglia di personalizzazione molto più ampia a seconda di quelli che sono i gusti del cliente che sicuramente si divertirà all'inizio a provare tutte quattro le mappe fino ad arrivare a quella che lui reputerà migliore e a quel punto diciamo che è un upgrade in più rispetto al fatto di avere una mappa sola ovviamente questo sistema costa un pochino di più stiamo parlando di un 10 15 per cento in più rispetto alla versione con l'unica mappa però da come dicevo un valore aggiunto notevole io direi adesso di passare la parola al mio collega che vi fa vedere appunto con come si fa a settare e a diciamo a utilizzare l'app della seletron per trovare la giusta mappa cominciamo col pedal booster questa è l'applicazione così è spento la cosa comoda che noi possiamo vedere il valore in entrata in uscita cioè del segnale in questo caso sono completamente pari perché la macchina è spenta quindi è originale diciamo il pedale se noi andiamo sul city che da un 25 per cento in più noi vediamo che già il rosso è più veloce del verde quindi la risposta del pedale è più rapida poi abbiamo lo sport che è un 50 per cento e si può ben vedere come si si alza molto più velocemente abbiamo il race che è un 75 per cento quindi già vediamo l'effetto del segnale come molto più rapido e il plus che è il 100 per cento che proprio è una cosa che appena si tocca il pedale la macchina va in più sul plus possiamo anche regolare al nostro piacimento se 100 per cento o diminuirlo in base al nostro piede questo per quanto riguarda il pedal booster poi usciamo dall'applicazione andiamo sulla c box quella motore ora lui aprirà ok connettiamo e qui possiamo vedere le varie mappe qui abbiamo siti e si vede le varie tarature ovviamente la macchina è spenta proviamo un attimo accenderla qui si vede il range dei vari sensori come lavorano su sport ovviamente lavorano diversamente poi abbiamo il race e anche qui sono talati completamente diversi e più abbiamo il plus in più su ogni diciamo city sport race plus possiamo anche regolare aumentare diminuire la pressione del turbo usando l'app apposita quindi come avete visto diciamo la differenza rispetto alle classiche sono quelle che noi usiamo più frequentemente la classica mappatura con un unica un unico settaggio utilizzando la versione connect soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica il cliente riesce a veramente a personalizzare la mappa proprio a seconda delle sue esigenze perché non abbiamo solo le quattro mappature come diceva mirko ma per ciascuna mappatura abbiamo anche il settaggio fine quindi uno la la sua mappa perfetta a seconda delle proprie esigenze come dicevo prima non è che tutti siamo uguali non è che tutti dobbiamo avere per forza al massimo ci sono alcuni clienti che mi chiedono di avere un incremento però un incremento minore rispetto ad altri sono delle esigenze personali con questo sistema si riesce a soddisfare qualunque tipo di esigenza direi che anche per questo per questa vettura oggi è tutto vi invitiamo a seguirci sempre sul canale cliccando sulla campanella iscrivendovi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che facciamo noi abbiamo in mente di produrre quasi due video alla settimana se ci riusciamo in due video alla settimana per cui avete tanto materiale se vi iscrivete veramente riuscite a seguirci in maniera completa in ogni caso andate a vedere quelli i lavori che noi facciamo li trovate tutti sul sito www.nomemilagiri.it soprattutto andando a verificare nella parte archivio elaborazioni dove ci sono più di 1500 vetture e per qualunque esigenza qualunque richiesta anche un consiglio non è detto che dovete per forza chiamarci solo per acquistare un qualche cosa bastano solo anche dei consigli che gli diamo gratuitamente non preoccupatevi ci potete chiamare in sede 027383175 benissimo alla prossima grazie ciao 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 ciao